Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo episodio del Great Harmony Bentornati di nuovo qui con le armi, stavolta fatte da me, di me persona, medesimo questo faccino Benissimo sia di skin che di faccia nella vita reale ovviamente Lei, le cosa vuole? Che cosa desidera? Non compro mica niente io eh Dai Un saluto ad Azenka sempre Che fa compagnia sempre a me Perché manca un pezzo scusa? Ma è una radice, si sta che sia così eh No, non mi piace i pezzi che manca Quella noiosa Voglio le cose asimmetriche A parte che l'ho scaricato quindi Asimmetriche non l'ho sbagliata io Quindi Si fanno Allora, cosa vediamo oggi? Allora, prima cosa volevo Faremo vedere oggi Faremo vedere altre tre armi fatte da me Me medesimo, pacchetto Abbiamo un'idea in mente di fare qualche armi Cioè qualche arma Dica, dica adesso ci vedrai perché voglio vedere come Relativa a qualche personaggio dei fumetti Giusto Davids? Si, è un'idea embrionale L'idea era questa L'idea era questa L'idea era questa Però l'idea c'è Se funziona vedere un episodio molto particolare Non il prossimo perché sarà Ecco Perché probabilmente il prossimo sarà un episodio di ancora delle armi degli iscritti Quindi non sarà il prossimo Forse quello ancora Però Quando riusciremo Quando ci riusciremo ve lo faremo vedere Secondo me sarà una cosa spettacolare Ho già in mente un po' Ci metteremo anche le skin Le skin? Le skin che vi devo mettere No, madonna La riporto Comunque No, niente Mi, 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 mi Mi sono ingoglionito Comunque Se non lo già non lo sai Comunque in questi episodi Faremo vedere un paio di cose prima Il server è ancora in Madonna Che mi chiedete Quando apre, quando apre Datemi l'indirizzo Non ve lo do l'indirizzo Perché non è quello ufficiale E soprattutto È ancora in costruzione Non è tutto perfettamente a posto Quindi sinceramente Portarvi in un posto Dove non è ancora sistema Mato Non c'ho voglia Se voi avete delle costruzioni Esatto Se sapete fare costruzioni Tipo di quiz Di labiritti Adesso ce l'abbiamo già Queste cose qui Però magari Di corsa ad ostacoli Qualsiasi cosa Che possa far divertire l'utenza Eventi Esatto Eventi Eventi Ditecelo Cioè passatele Esatto Mandatele nelle mail Cioè prima mi mettete l'accordo Mail o telegram Comunque Mi scrivete Vedete guarda C'ho un'idea per un evento Scrivi Davids Glielo dice Glielo dite Glielo dicete Vabbè Davids Vedrà se Gli piace o non l'idea E se gli piace Mandate tutto E siete a posto Almeno ci date una mano Per il più Più mani c'ho Più faccio prima Quindi sti cavoli Per esempio Per esempio Ho due costruzioni Che mi hanno mandato E poi me le faccio vedere Guarda Tanto che siamo qua Ne approfitto Vedete questo è un comando Che vi fa andare nelle zone A questo tutorial qua Eh lo so Chi sta vedendo sto video Ha già capito Che costruzioni Voglio far vedere L'ho un po' modificata Lo so Allora questa qua Aspetta che c'ho Tutto scritto qua Ci sono i cosi dei silverfish Ci sono Di cosi dei silverfish Li ho cambiati In mezzo quintale Però alcuni Ce ne sono ancora Ok Sì Potevi evitare Di mettermi Silverfish A posto Di blocchi normali Io odio I silverfish A parte che lei Li odia Ma proprio Comun Cioè Blocchi normali Comunque me l'ha fatto È apprezzato Comunque Me l'ha fatto I'm Mick Comunque I'm Mick Trattino basso X Grandissimo Ho fatto questa costruzione Magari mettilo Mettilo scritto anche Quando editi Così si capisce meglio Se mi ricordo lo faccio Comunque L'ho piazzata qua Ovviamente non si può uscire Sti gran cazzi E ci ho messo il tutorial Per climare Molto semplice Niente di complicato La struttura però La vedete anche voi È molto Sinceramente non dispiace Molto carina Poi sta cosa dei Pistoni Diamanti Quella Quella L'ho messa io Ah LOL Lui qui aveva fatto Un mezzo spawn Qui al centro Così Molto carino Però non sapevo Come utilizzarlo Così Gli ho tolto lo spawn Ho lasciato lo strutturo Perché comunque Mi piaceva E ho fatto Grazie dell'aiuto Grandissimo Poi facciamo vedere Anche warp Quiz Questa è un'altra struttura Non vi faccio vedere Sopra perché Se no Un po' vi spoiler I passaggi Quindi non è il massimo Tanto poi li cambio Non è un problema E sarebbe quello Per un gioco a quiz Che abbiamo in testa Questa l'ha fatta Matrix Grandissimo Lo stile Mi piace tantissimo Poi io adoro Il quarzo Ma invece Allora il quarzo Non mi dispiace Mi piace anche a me Però non mi piace Quando lo usano Su tutta la struttura Invece qui L'ha usato Sì tanto Ma allo stesso tempo L'ha un po' abbinato Con altre cose Quindi Gli dico Questa è stata Una bella bella idea Cioè mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Grazie mille Anche a te Quindi vedete ragazzi Noi usiamo Le vostre idee Se ce le mandate E ci piace Noi le mettiamo E vi ringraziamo Anche Nei video Volentierissimo Adesso sto sentendo Anche un plug Inner Che mi dovrebbe dare Una mano Per qualche plug In Ah diciamo Quella cosa Dipende Qual è la cosa Della texture Ma no Sempre insieme Alle armi Quello Quindi Bene o male Abbiamo già incuriosito Lo so Non stare Abbiamo già incuriosito Abbastanza Quindi Avete già Tutti i coglioni Comunque andiamo avanti Andiamo allo spawn Slash zone E andiamo al spawn Che dobbiamo far vedere Le tre armi Di oggi Che saranno Tre armi Diciamo anche Dove saranno Queste tre armi Sì 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 Poi nel prossimo video Vi faremo vedere Proprio le strutture Gli eventi proprio Che abbiamo Allora Il warp L'abbia dentro E il warp Parkour Al parkour Quando arrivi in fondo Una volta ogni 24 ore Puoi vincere questa Eruzione Vulcanica Ops Scusa Stavo facendo Stavo facendo Una roba Stavo Scusa Va bene Ah ok Va bene Allora Stavo dicendo Ricapitoliamo Eruzione vulcanica Quando c'era una cesta qui Quest'arma La chiude tutta la forza Del vulcano I la la Wow 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 Sì Puoi modificare il colore Puoi modificare il colore Sì Non si legge la descrizione È un'altra quella Ah lol Madonna Io Vabbè Probabilmente la riporterò Da qualche parte Sto stibiando troppo Sono mezza rincaglianita Cioè adesso sto stibiando Vedi te Studio quanto me Guarda Allora L'altra armi invece Sono del warp labirinto Sono due In totale sono tre Però stavolta Che facciamo dire Solo due Questa chi se la ricorda Era un'arma di Semi vip Che avevo fatto Chi se lo ricorda Vabbè La coloratissima Che è un'arma spammabile E Queste sono delle prime armi Che ho fatto Madonna L'asfaltatrice C'è solo il nome E tutto Un programma Che devo ancora Settargli bene il danno E quindi Se vedete che ho più Tranquilli che vediamo Sistemo dopo Che carino che sono Comunque Facciamo vedere le armi Prima arma Eruzione vulcanica E' un'arma comunque Che si consuma Andiamo in arena Per vedere Le vediamo direttamente qui Poi andiamo in arena E le proviamo Questa è l'eruzione vulcanica Mala Che fia A me piace un casino Questo effetto E' un casino Poi questo item Come arma Mi fa impazzire Lo finita Mi ne dai questa qui fa questo guarda che bell'effetto è tutto colorato guarda che bell'effetto è tutto colorato guarda che bello mi piace un casino tutto colorato tutto colorato ma che figata è coloratissimo siiii 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 un po se mi diverto quando fa queste cose siiii va bene basta non è che fuochi d'artificio fuochi d'artificio colorati tra l'altro preciserei vieni a fare questa arma quanto mi sono divertito dovevo trovarselo i colori praticamente per farla l'ultima arma invece è molto semplice non è niente di complesso ma mi piace è questo luiter questa devasta eh questa devasta una volta griffava questa era un'arma griffabile una volta ma sinceramente che si usava solo griffabile non mi piaceva l'idea l'ho resa che potevano usarla tutti ma che figata che figata madonna 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 slash zone andiamo all'arena army che è questa qua arena pvp one ed eccoci qua non ricordo se era visto questa cosa che avevo fatto al centro comunque questa è area se si l'avevamo vista comunque siamo qua allora shot get mi dai la eh arrivi ecco non è mai qua quando serve oh no ce l'ho ce l'ho ce l'ho io passo soltanto mi devo togliere la roba dall'inventario quindi e quindi immagino già che sono il tester certo stavolta cambio kit kit mucca prendo un po' più forte vai ok allora cosa proviamo per prima vada una volta faccia l'erosione vulcanica prima di tutto c'ho paura però io eh signorina c'ho paura io mi dica quando è pronto pronto vada c'ho paura però io eh il kit non te lo metti addosso scusa eh 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 ho messo l'armatura in creativa e genius quella è mucca? si questa è mucca ne ho tanta pazienza devo avere nel mio cervello ce l'ho l'armatura no me la sono ancora tolta quanto sei le beccelle eh beh nenni non commento ok stavolta ce l'ho vai spari se mi becca magari ok ovviamente c'è vulcanica da fuoco attorno ah brucia il caricatore come brucia come brucia come brucia brucia come brucia quattro cuori mi hai tolto però c'ho una armatura ok con tutta una carica da 100 protezione 4 comunque eh ci sta ci sta protezione 4 consumabile usa picchi vada 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 allora prossima arma cottatissima non mi ricordo se questa fa male proviamo ahia porca ma male ma tolto quale in mezzo ahi ma no 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 ma è mio cuore ahahah ma perché devo discutere quindi mezzo cuore allora adesso rimettitela dove l'armo no l'hai persa non c'era qua ma che cazzo ti hanno creato Prova a darmi 3 colpi, vediamo un po' Allora, fermo 1 Ho paura 2 3 No, l'armotore è ancora interso, vede che poi è passato il crear lag e si sono tolte la sua Basta BASTA Non è passato il crear lag, guarda Si, si vuole male, me lo fai lo stesso Ah, ma magari si non lo dici in chat che è passato, quindi devi modificare anche quello Guardate che devo chiudere già te che mi scrive, niente piange Comunque, non devi scrivere quando sto registrando Adesso l'asfaltatrice No, quella no Come no? Quella no Aspetta, SLASHIAL Ma come non la proviamo? Un colpo dallo piano però, un colpo dallo pianissimo Leggero, leggero, leggero Ok, molto leggero Quanto t'alto? 3 cuori Si, toglie circa 3 cuori Un po' di meno ci sta Che non è male per... Cioè, essendo armi che comunque prendi, facendo del parkour, eccetera No, questa per esempio è un'arma che prendi all'abirinto Che sblocchi con un sistema che non vi dirò ancora E lo capirete la prossima volta Capirete nella prossima puntata Yeah Sembra tanto da bimbo micchia però vabbè Ci vediamo nella prossima puntata Ciao a tutti Patata No, dicevamo comunque C'è merciva che sennò questa mi ammazza di nuovo Bene ragazzi Spero che le armi di Oltre Mi dò quella montura perché Per capire... Rapa C'è la texture bugata ma l'avete visto Bene ragazzi Spero che l'episodio di oggi vi possa essere piaciuto Vi ricordo di lasciare il polizio su questo video Vi ricordo di lasciare il polizio su questo video Vi ricordo di lasciare il polizio su questo video Vi ricordo di lasciare il polizio su questo video Commentatelo, condividetelo ovunque Anche al cesso mi raccomando Come abbiamo detto Se avete struttura e roba varia Scrivetelo... Scrivetemi sul telegram Sul... Dove cazzo mi pare Tanto trovate tutto in descrizione O se non... Se David se non risponde Scrivete a me anche il contatto David Senza problemi Si E' capace di telefonarmi a raffica Senca, 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 senca Perché poi io sono lo sclero Fatelo, fatelo, fatelo Fatelo Comunque Dicevamo Dicevamo Eh, mi conviene Quindi niente ragazzi Per il momento Possiamo dire Che è Finitale Aspetta Spammi la coloratissima Spammi la coloratissima Spammi la coloratissima Facciamo Buon anno Buon anno Buona Pasqua Buon Natale Buona Nucale Buona Nucale Madonna Un finale coi botti Un finale coi botti Questo mi piace